La lotta alle mafie riguarda tutti, ciascuno di noi, non si può restare indifferenti, non si può pensare e ne dire non mi riguarda. Così, citando Giovanni Falcone, il presidente Sergio Mattarella in visita a Casal di Principe richiama la platea al senso di responsabilità nel giorno della commemorazione di tutte le vittime innocenti delle mafie.